Questa sera a TV7 l'allarme Covid in Veneto e le storie di chi è costretto a fare la fila per i pacchi alimentari. Poi la liberazione dei pescatori di Mazzara, luci e ombre sul boom di Amazon e l'incontro con Piero Angela su questo nostro tempo difficile. Allora appuntamento con TV7 a mezzanotte. E adesso come ogni venerdì TG1 Motori a cura di Francesca Grimaldi. Grazie a tutti.